Buongiorno a tutti, io vi porto un breve brevissimo aggiornamento su un tema che era inserito nella scaletta della giornata di oggi che riguarda la sperimentazione animale. Sperimentazione che invece coglie poco all'interno delle istituzioni, permane la tendenza di evitare di trattare questo argomento con chiarezza. Però ci sono segnali, segnali positivi che arrivano dall'Europa, perché il Parlamento europeo, non la Commissione, non il Consiglio che sono gli altri due grandi attori soggetti dell'Unione, ma il Parlamento europeo, che come sapete è l'unico organo direttamente e democraticamente eletto dai cittadini, si è fatto portavoce di quelle che sono le battaglie dei cittadini su questo tema e ha recentemente, di questo vi voglio parlare, votato una importante risoluzione che chiede di non soltanto abbandonare la sperimentazione animale nel settore dei cosmetici, come è già oggi presente dalle regole in vigore a livello europeo, di abbandonare questa pratica nel settore cosmetico in tutto il mondo e quindi di adoperarsi a livello globale per evitare di usare qualcosa che ormai non ha più senso di esistere, perché abbiamo alternative e metodi sostitutivi molto più validi per poter testare i cosmetici e i prodotti che vengono utilizzati nella cosmetica, che è qualcosa che oggi veramente fa rabbrividire, fa veramente impressione, pensare che possa essere una pratica ancora utilizzata. In Europa è vietata, è vietata dal 2009 con degli ulteriori divieti a partire dal 2013, ma è pur vero che esistono molte possibilità di aggirare la norma e molte possibilità di avere scappatoie. Questo perché alcune delle sostanze che vengono utilizzate nel settore dei cosmetici potrebbe essere testata comunque su animali, perché potrebbe essere una sostanza utilizzata in altri ambienti, per altri utilizzi, pensiamo a detergenti o piuttosto prodotti per la pulizia, piuttosto che altre fattispecie di utilizzo di sostanze chimiche e che quindi lo stesso ingrediente possa essere testato anche secondo altre norme, il regolamento Ricci in particolare, sulle sostanze chimiche. E quindi questa è la prima scappatoia, il primo motivo per cui questo divieto dovrebbe diventare non solo estendersi ad altre categorie di prodotti, ma dovrebbe diventare globale anche perché il vero problema è che molti prodotti, sappiamo bene, possono venire testati in altre parti del mondo e poi importati in Unione Europea. I controlli che vengono fatti su queste importazioni spesso lasciano un po' a desiderare o quantomeno nella scheda prodotto che dovrebbe riportare tutte le indicazioni precise su dove e come sono stati effettuati dei test, a volte molto carente. E quindi questa è l'altra grave lacuna, l'altra mancanza che deve essere sanata e colmata e che quindi rende un po' instabile e più debole e facilmente raggirabile il divieto in corso. La buona notizia è che il Parlamento europeo si è espresso fortemente chiedendo a larghissima maggioranza, quindi 752 eurodeputati presenti in Parlamento europeo hanno votato con una ventina di persone che si sono, di eurodeputati che si sono astenuti e pochissimi contrari, quindi hanno votato a larghissima maggioranza questa iniziativa che quindi chiede, tenterà di chiedere a livello globale, in particolare in sede di Nazioni Unite, quelle che saranno i prossimi appuntamenti a livello internazionale, di mettere in agenda questo divieto per appunto rendere più solido il divieto che è già in piedi a livello europeo e renderlo davvero efficace e diffonderlo in tutto il mondo. Questa è una bella notizia che però si va ad affiancare a quelle che sono appunto tutte le criticità che ancora permangono in questo campo perché sappiamo che la sperimentazione animale è comunque utilizzata in altri settori, non soltanto ovviamente quello della cosmetica ma soprattutto a livello tossicologico, farmacologico e di test per tutta una serie di ulteriori sostanze che sono oggi testate e per le quali invece si deve necessariamente andare verso l'utilizzo di tecniche alternative. Questo è un problema politico perché la scienza già oggi ci dà molte soluzioni e molte possibilità di abbandonare l'animale, il modello animale come modello per appunto testare questi prodotti. Quello che è ormai riconosciuto è, non appunto a livello politico ma da buona parte anche della scienza, è la non predittività dei test sull'animale perché il modello animale non consente di avere dei risultati che possano essere agilmente, velocemente e facilmente applicabili all'uomo. Siamo esseri umani diversi, siamo esseri viventi diversi, con caratteristiche diverse ed è il motivo per cui una scienza vera oggi, non domani, oggi dovrebbe partire da un'attenzione a quelli che sono dei modelli umani, modelli computazionali, modelli epidemiologici, modelli su cellule in vitro. La scienza sta facendo passi da gigante per migliorare la predittività e migliorare la scienza e la salute quindi delle persone. c'è bisogno che la politica si svegli e cosa che deve fare la politica, il vero ruolo che deve fare la politica oltre a dare gli indirizzi, oltre che mettere delle regole, deve mettere i soldi. Ed è l'altra grande cosa che purtroppo manca in questo ambito, c'è una tendenza appunto a non indirizzare le risorse economiche nel modo giusto, tentando di mantenere in piedi quello che è una pratica ormai vecchia invece che appunto stimolare quella che è già oggi una forte innovazione ma che deve essere necessariamente diffusa perché molto spesso una buona idea, una buona innovazione che si è testata, si è valutata, possa portare dei grandi benefici rimane chiusa in un cassetto, in un cassetto di un centro di ricerca o di un laboratorio e non viene diffusa. In questo purtroppo una grande colpa lo hanno anche le università e il sistema della ricerca in generale che non farete tra loro e per contro appunto anche il ruolo della politica che è dormiente e purtroppo non è sufficientemente coraggiosa e reattiva per appunto sostenere finanziariamente e politicamente le tecniche alternative. Il Parlamento Europeo comunque ha dato un forte segnale e lo hanno dato in passato anche milioni di cittadini firmando la Ic Stop Vivi Section, le iniziative sono tantissime e il Movimento 5 Stelle da sempre è su questo fronte, su questa battaglia, la combatte con grande determinazione. Grazie. Grazie.